Internazionalizzazione e cooperazione sono momenti dove tutti assieme possiamo andare a creare reddito per le nostre aziende e trasportare tutto quello che la nostra storia ci ha legato e ci può portare a nuove prospettive per un futuro e poter dare risposta ai nostri soci che è il punto finale, il nostro obiettivo finale.